Se è la prima volta che tieni in mano un uncinetto, dovrai concederti il tempo necessario per trovare la posizione più comoda e adatta a te, in modo da arrivare a usare correttamente l'uncinetto in poco tempo. Ecco alcuni modi di tenere uncinetto e filo. Provali e scegli la soluzione che preferisci. Tutti i metodi offrono un buon controllo del filo per mantenere la giusta e costante tensione che consente di creare maglie regolari. Esistono due modi per tenere l'uncinetto. Questa è la presa a matita. Prendi l'uncinetto come una matita per scrivere. Tieni in modo morbido la parte centrale piatta tra il pollice e l'indice, così che l'estremità a uncino sia appoggiata sul dito medio e lo stelo dell'uncinetto si trovi nella piega del pollice. L'altro metodo è la presa a coltello. Tieni la parte piatta tra il pollice e l'indice, in modo che lo stelo dell'uncinetto si trovi sotto il palmo della mano, come il manico di un coltello. Controlla il movimento dell'uncinetto con l'indice.